I tamburi rotanti lavorano a ciclo continuo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nell'isola vulcanica di Sumbawa, in Indonesia. Le rocce con acqua e mercurio dopo tre ore diventano un'amalgama fangosa. Il mercurio si lega all'oro. Se ne ricavano piccole pepite. Il momento della separazione è il più pericoloso. Bruciando, i vapori di mercurio vengono liberati nell'aria. La giovane Maiwin, studentessa indonesiana di 22 anni, si trova a Rimini per studiare i campioni di capelli dei minatori, grazie all'attrezzatura sofisticata messa a disposizione dal Laboratorio di Chimica Ambientale. Abbiamo raccolto 150 campioni di capelli di cittadini di Sumbawa. Gli effetti del mercurio sono e saranno molto pericolosi per i minatori e per le famiglie che vivono vicino o nelle miniere. I sintomi dell'intossicazione sono ben visibili, per esempio tremori o problemi con i denti. Quest'attività è illegale. Grazie all'impegno della fotoreporter riminese Elisabetta Zavoli, che vive e lavora a Jakarta, Maiwin ha ottenuto una borsa di studio del Ministero degli Affari Esteri, su proposta dell'ambasciata italiana. Questo ci ha permesso di portare qui uno studente indonesiano e vorremmo poi correlare tutti questi dati, insieme anche dei dati che abbiamo raccolto attraverso dei questionari, insieme proprio alle analisi di mercurio nei capelli di queste persone. Il problema è che non si preoccupano degli effetti del mercurio, perché prima di lavorare nelle miniere guadagnavano 2 euro al giorno. Da quando lavorano in miniera possono arrivare anche a 5, 10 o addirittura a 100 euro al giorno. Non possiamo fare molto, ma possiamo cercare di sensibilizzare, collaborando e cercando di spingere il governo per avere un metodo di estrazione. È molto utile per me essere qui a Rimini, perché se imparo ad analizzare il mercurio, potrò farlo un giorno anche nel mio paese. È bello e non è una cosa che faccio solo per me, ma per molte persone e per la salvaguardia dell'ambiente.